Il primo suono che ricordo è il suono del mio nome, Andrea, Andrea di Pietro della Gondola. Il terzo suono che ricordo è il ritmo di martello e scalpello, a tagliare la pietra, a imparare il mestiere, a rubare con gli occhi. Vi conosco, Andrea. So che vi piace immaginare cose che nessuno ha mai fatto prima, ed è questo che voglio. Prendi una colonna, misura nel diametro, e poi disegna ogni elemento della facciata, moltiplicando il diametro della colonna, per otto, per sedici, per ventiquattro. Ero partito apprendista, taglia pietra, e tornavo architetto, capace di tenere insieme, dentro un progetto, il sogno del committente col saper fare dell'artigiano. Ero partito, Andrea di Pietro della Gondola, e tornavo Andrea Palladio. Il Palladio.